bene io voglio vedere qua l'altro non puoi andare, o quello che ha visto puoi vedere la casa mia vuol dire vieni a vedere come avrà passato la sede la sede la sede la sede il muovo il muovo il muovo il muovo il muovo il muovo Grazie a tutti. Grazie a tutti.